una domanda che spesso mi viene posta è qual è il segreto della seduzione o per meglio dire come facciamo a coinvolgere le persone che ci interessano esiste un segreto esiste qualcosa di particolare che può essere trasmesso ora io rispondo a questa domanda in modo preciso in realtà non esiste un segreto della seduzione o perlomeno potrei dire esistono due segreti per quanto riguarda la capacità di sedurre la capacità di coinvolgere il primo segreto è quello di imparare le opportune strategie comunicative verso gli altri per coinvolgere le persone che ci interessa quali sono le strategie comunicative che dobbiamo imparare sono essenzialmente il linguaggio della sfera emotiva il linguaggio della sfera emotiva delle altre persone perché la sfera emotiva comunica comunica quelle che sono le sue esigenze lo comunica attraverso un linguaggio analogico le comunica attraverso dei micro segnali di comunicazione non verbale e se noi riusciamo a capire quelle che sono le caratteristiche del linguaggio della parte emotiva dell'altra persona riusciremo a coinvolgere su un piano subliminale riusciremo a coinvolgere senza quasi che neanche l'altra persona si renda conto delle strategie si renda conto di ciò che accade per cui è veramente di fondamentale importanza come segreto della seduzione riuscire a capire a conoscere questo linguaggio il linguaggio delle emozioni il linguaggio analogico della sfera emotiva questo è il primo segreto ovviamente tutto questo richiede un allenamento richiede un allenamento che però ognuno di noi può tranquillamente imparare attraverso le giuste metodiche però questo non è sufficiente per mettere in atto le giuste strategie non è l'unico segreto il secondo segreto anch'esso di fondamentale importanza è capire sempre attraverso questo linguaggio ma non più applicato sugli altri applicato su se stessi per acquisire quello che viene detto il distacco del risultato cioè dobbiamo tra virgolette imparare a dialogare con la nostra parte emotiva affinché il coinvolgimento non diventi un bisogno perché se diventa un bisogno allora saremo pilotati dei nostri bisogni e ogni volta che siamo più attenti dei nostri bisogni tenderemo a non raggiungere il risultato che desideriamo ma anzi spesso otterremo l'inverso del risultato che desideriamo per cui queste due sono le regole fondamentali e il vero segreto della seduzione ora per raggiungere il distacco del risultato è necessario fare una cosa fondamentale alimentare di emozioni la nostra parte emotiva perché noi possiamo raggiungere il distacco del risultato che significa non essere bisognosi nella seduzione che si dimostra affamato morirà di fame sinceramente questo è un assioma fondamentale della seduzione dobbiamo far sì che la nostra parte emotiva non sia affamato perché se la nostra parte emotiva affamata tenderà a mangiarsi le polpette avvelenate delle persone che incontro e quindi tenderà ad esempio coinvolgersi con persone che tenderanno a farle soffrire oppure non riuscire a coinvolgere invece le persone che ci interessano per cui dobbiamo per così dire alimentare volontariamente imparare volontariamente ad alimentare la nostra sfera emotiva in modo tale da non avere una sfera emotiva in modo tale da non avere una sfera emotiva affamata per fare questo è necessario anche qua conoscere ed applicare su noi stessi il linguaggio delle emozioni in modo tale da capire che tipo di emozioni somministrare la nostra parte emotiva attraverso il nostro comportamento per creare con lei un'alleanza in modo tale che tutto questo possa realizzarsi in tempi rapidi e quindi in modo tale da avere il necessario la necessaria assenza di bisogno ecco quindi che queste due segreti messi assieme fanno quello che sono il background le caratteristiche di per coinvolgere a livello emotivo a tutti i livelli in tutte le aree della nostra vita quindi sia nelle rapporti affettivi sentimentali sia anche nelle relazioni familiari con i genitori sia nelle relazioni lavorative sia nelle relazioni sociali in genere ecco quindi che comunicazione con se stessi e comunicazione con gli altri sono i due segreti della seduzione vi invito a seguire altre vi invito a seguire altre informazioni a leggere degli articoli sul mio blog http www.seduzionevip.com ciao a tutti